ma è vero che con due camere come adesso si perde un sacco di tempo per cui non si riescono a fare le leggi no il nostro parlamento ha sfornato il più alto numero di leggi di tutti i paesi europei sono i decreti di applicazione che arrivano dopo un sacco di tempo e questo con le due camere non c'entra proprio niente di niente niente ma comunque è vero che tempi e modi per l'emanazione delle leggi saranno semplificati no basta vedere l'articolo 70 la costituzione ci mette nove parole facili e chiare per dire come fare per legiferare invece la deforma ce ne mette 442 un casino che non ci si capisce niente di niente niente però chi guarda avanti per il cambiamento vota sì cambiare non vuol dire sempre per forza andare avanti per esempio per esempio con il sì si torna indietro di un secolo più o meno come nel gioco dell'oca senza nessun riferimento alla ministra che questa è la deforma dei gamberi grazie a tutti grazie a tutti